benvenuti a meteo giuliaci punti bene questo fine settimana sarà uno specchio di come è fatta la primavera noi vedremo le piogge le nuvole le schierite il caldo il freddo e i venti forti insomma tutto l'inventario di quello che può offrire una brutta situazione primaverile in particolare oggi pioverà su tutto il centro nord dell'italia bello invece al sud sabato miglioro quasi ovunque ma ci saranno molte nuvole al centro nord piogge sulla sardegna piogge deboli direi intermittenti sulle regioni di nord ovest e quindi poche cose questo per l'arrivo della perturbazione numero 3 di aprile domenica la stessa perturbazione ancora porterà piogge sulle isole maggiore e piogge deboli sulle regioni di nord ovest ma col suo centro di bassa pressione ubicato sulla regione meridionale richiamerà dai balcani venti più freddi per cui la giornata di domenica sarà un po' freddina su tutta l'italia perché sia le regioni tirreniche che le regioni adriatiche saranno spassate da forti venti settentrionali venti di maestrale lungo le regioni tirreniche venti di bora sulle regioni adriatiche bene ma torniamo alla giornata odierna vediamo l'immagine del satellite delle ore 8 di questa mattina vedete le nuvole che ricoprono gran parte del centro nord che fanno parte della perturbazione numero 2 di aprile giunta nella giornata di ieri l'altra l'altro ammasso nuvoloso che vedete sulla spagna invece è la perturbazione numero 3 un po' sfilacciata diciamo una perturbazione povera potremmo dire che raggiungerà l'italia appunto domani portandosi a sabato e domenica nuvole al centro nord qualche pioggia sull'isola maggiore qualche debole pioggia sulle regioni di nord ovest bene andiamo avanti allora vediamo la situazione prevista per questa mattina vedete le piogge su tutto il centro nord eccetto le coste abruzzese nuvole al sud sulla sardegna nevicate sulle alpi oltre mille mille trecento metri nevicate anche sull'appennino emiliano oltre mille mille duecento metri attenzione possibilità di temporali lungo le coste tirreniche andiamo a vedere la situazione per il pomeriggio migliora sulla liguria sulle coste toscane sulle coste marchigiane e ancora qualche pioggia nelle zone interne del centro ancora piogge su lombardia emilia e venezia e nevicate sulle alpi bene andiamo a vedere temperature temperature indieve calo al centro nord per effetto delle piogge invece attenzione temperature indecisa risalita al sud e soprattutto sulla sicilia e sulla calabria per effetto da un anticiclone africano che dalla libia si allungherà fino alla regione meridionale portando uno sbalzo delle temperature verso l'alto e le massime sulla calabria e sulla sicilia oggi potrebbero raggiungere anche i 23 e 24 gradi bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno grazie a tutti